In seguito a frequenti e ripetuti episodi di minacce di violenza perpetrate nei confronti del personale sanitario, medici, infermieri e ausiliari in servizio nel pronto soccorso del Fatebene Fratelli, si chiede alla dirigenza aziendale un tempestivo intervento per risolvere il problema sicurezza, compreso il ricorso ad un istituto di vigilanza privata che possa garantire in maniera permanente la propria presenza in loco. È l'appello rivolto ai vertici dell'azienda sanitaria dalla CGL, che chiama in causa prefetto e questore. In particolare, i rappresentanti Pompeo Taddeo ed Antonio Coretti lamentano come il problema sia stato più volte sollevato dai lavoratori, ma sempre passato in sordina da parte dell'amministrazione aziendale. Ad oggi, dicono, la situazione è divenuta insostenibile, poiché i casi di minacce con pericolo di violenza nei confronti del personale sono ancora più frequenti e assumono toni inquietanti che non consentono il regolare svolgimento dell'attività, già gravata da una consistente carenza di personale che costringe gli operatori in servizio adoperanti carichi di lavoro. Non ultimo, il problema della sicurezza dell'utenza, specie di quella che sosta nei locali del pronto soccorso, la cui presenza è già di per sé indice di tensione e preoccupazione, sulle quali non può certamente incombere anche il peso aggiuntivo delle frequenti e spiacevole situazioni che minano la stabilità, la tranquillità e la professionalità degli operatori, la presa di posizione dei rappresentanti sindagali.